Siracusa, il Covid ritorna all'Umberto I, positivi 8 infermieri e 2 medici. Ritorna come un fantasma l'angoscia dei contagi tra il personale sanitario in forza all'ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo fonti autorevoli ad essere contagiati sarebbero attualmente 8 infermieri e 2 medici del nosocomio siracusano che con tale nuovo focolaio farebbero risorgere l'attaragliante periodo risalente ai primi mesi del 2020 quando l'Umberto I ebbe ad essere la fonte di continui focolai tra personale medico e degenti. In questa fase temporale a preoccupare sarebbe la mancata vaccinazione di una fetta di popolazione dai numeri consistenti. Un primo dato è certo su cui basare le successive riflessioni sarebbe il numero dei ricoveri in terapia intensiva che nel nosocomio e retusio raggiungerebbero quota 102 con l'ingresso di 14 pazienti solo nella giornata di ieri. Il dato ancora più preoccupante sarebbe il numero di persone non vaccinate e ricoverate in terapia intensiva ovvero 78 pazienti su 102. Un dato quest'ultimo che ci permette di ricondurre la riflessione a un post pubblicato da Musumeci nel quale il governatore siciliano espone le proprie preoccupazioni. Circa i 779 degenti ricoverati di cui ben 552 non hanno effettuato nemmeno una dose di vaccino. Sono dati allarmanti che lasciano un'amara preoccupazione circa l'interminabile guerra pandemica della quale bisogna riguardarsi attuando le migliori armi sanitarie attualmente disponibili. Grazie. Grazie.